La collezione di Mark Sadler sulle infinite possibilità offerte da Tecnopolimeris Lamp è nata a Cordeon. Che risveglia nella memoria il PC di un tessuto e il mantice di una fisarmonica, questa collezione segna a pieno titolo l'apertura di un nuovo filone narrativo contemporaneo, in cui è indissolubile. I led sono integrati da 2.700 o 3.000 Kelvin per la sospensione, mentre la nuovissima